La scorsa notte uno studente di 19 anni si è recato in questura raccontando di essere stato rapinato del portafogli e dell'auto da due malviventi mentre si accingeva a fare benzina. Sulla denuncia è stato dichiarato che verso le due il giovane sarebbe stato assalito ai distributori automatici della stazione di servizio della Rotonda di Corso Torino. Iniziate le indagini, una volante della questura ha subito recuperato la vettura, una Renault accartocciata contro un muro di viale Don Bianco nei pressi del cimitero. Poi sono state visionate le immagini del video del servizio di sorveglianza della zona con cui la polizia ha accertato che nella notte non ci sono state aggressioni. Lo studente quindi di fronte agli accertamenti degli inquirenti ha confessato di aver simulato l'aggressione per il timore di essere rimproverato dai genitori per l'incidente. Il giovane è stato così denunciato alla magistratura per simulazione di reato. Ed un camionista disoccupato di Val Fenera dovrà scontare otto mesi di reclusione con la condizionale per una tentata rapina. Si tratta di Claudio Galliano, 55 anni, che una sera del marzo dello scorso anno nella farmacia Don Bosco di Piazza Vittorio Veneto aveva tentato una rapina. Il fatto aveva creato molta curiosità perché il bandito con il volto coperto da una sciarpa ed armato di pistola giocattolo era stato disarmato e bloccato dal titolare della farmacia, nonché presidente della cassa di risparmio di asti, Aldo Pia. Nel corso delle indagini, come ha sostenuto la difesa, è emerso che il galliano, incensurato da tempo disoccupato, ha agito con un gesto di disperazione, privo di forte pericolosità ed isolato nella sua vita, sempre irreprensibile. E di qui appunto le attenuanti. Rapina in banca ieri sera, poco dopo le 13 a Revigliasco, due banditi armati di pistola e con il volto semicoperto da una sciarpa, hanno fatto irruzione agli sportelli della locale filiale della cassa di risparmio di asti nella centrale Piazza Vittorio Veneto. Il bottino è stato di circa 30 mila euro in banconote da 50 e 100 euro. I malviventi sono poi fuggiti su una Fiat Punto, trovata due ore dopo dai carabinieri alla periferia del paese e risultata rubata. Nell'Astigiano questa è già la seconda rapina dall'inizio dell'anno, solo quattro giorni fa era stata assaltata la filiale di Via Cavour del credito emiliano. E ieri il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha realizzato un bilancio consultivo dell'attività svolta nel 2009. Nell'arco dell'anno, con oltre 400 verifiche, sono stati scoperti 31 evasori che hanno sottratto al fisco 32,5 milioni di euro per redditi non dichiarati e costi non deducibili. È stata inoltre vasa IVA per oltre 9,3 milioni di euro. Nella lotta per contrastare il lavoro nero sono stati scoperti 64 lavoratori, 17 italiani, 13 comunitari e 34 extracomunitari, tutti non in regola, libro paga ed in alcuni casi anche clandestini. Il 2009 per le fiamme gialle a Stigiane è stato un anno particolarmente significativo in quanto ha anche segnato l'inaugurazione della nuova caserma del Comando Provinciale intitolata Adaldo Zappa. Ma sentiamo il comandante. Noi abbiamo svolto nel 2009 oltre 400 traverifiche e controlli, abbiamo segnalato all'agenzia e dall'entrata oltre 36 milioni di elementi positivi di reddito e oltre 9 milioni di euro d'IVA. La nostra attività quotidiana è questa, poi tutto il resto è quello che si vive e che esula, ma che ci porta come Polizia Economica e Finanziaria a sviluppare. Abbiamo lavorato nell'ambito del contrasto alla droga, abbiamo addirittura arrestato alcune persone per estorsione, oltre 153 persone fra reati societari, fallimentari, tributari eccetera. Quindi noi lavoriamo a 360 gradi chiaramente tenendo in considerazione quali sono le nostre competenze primarie. E anche per oggi qui dalla redazione di Asti è tutto, grazie come sempre per averci seguito, la linea torna allo studio. Grazie a tutti.